Pablo Escobar che ha padroneggiato ogni pagina del manuale e ha aggiunto alcuni capitoli finali di suo pugno. Aveva potere politico, era un eroe nella sua comunità. Era spietato con i nemici, macchiavellico ed era un bravo uomo d'affari. Non si guadagnano 30 miliardi di dollari per caso. Fa come Escobar e anche tu potrai diventare il migliore della tua classe imparando a farti degli amici e a influenzare tutto.